estate 1224 l'essenzialità di un'esperienza francesco parte con leone angelo ruffino e masseo per dirigersi alla verna per mettere sul monte una croce è arrivato per francesco il momento del gezzemani dove raccogliere tutto se stesso e consegnarsi pronto nelle mani di chi lo ha sempre accarezzato con dolcezza francesco passa molti giorni solo mentre frate leone lo spia di nascosto preoccupato per la sua salute un piccolo spiazzo su un costone roccioso è il luogo prescelto da francesco per avvicinarsi il più possibile al cristo forse il luogo giusto per mettere la croce in una notte limpida e piena di stelle la sagoma del povero di dio si staglia sul costone roccioso per prendere parte all'esperienza della croce sente quello che gesù ha provato portando il peso delle colpe dell'uomo sente tutta la forza del perdono verso l'umanità intera che ha tradito il signore sente il grande regalo di avvicinarsi il più possibile a cristo francesco è trafitto da un fulmine poi un altro colpo e un altro ancora per cinque volte viene ferito poi il silenzio e francesco si accascia sulla roccia la visione è cessata ma le mani i piedi il costato sono feriti e sanguinano abbondantemente tutto si è compiuto francesco è stato crocifisso è il 15 agosto del 1224 14 15 15 15 16 16 17 Grazie a tutti